Di riforma della giustizia si parla da tempo e forse dopo le europee si passerà dalle parole ai fatti. Ma al di là dei casi più eclatanti che riguardano il penale, rimetter mano alla giustizia vuol dire coinvolgere anche la parte amministrativa più strettamente legata alle imprese e al sistema produttivo. Di questo si è parlato in un convegno promosso dalla Camera Amministrativa degli Avvocati di Bari, iniziando dai punti di crisi. I costi effettivamente sono alti, specialmente nelle materie di contenzioso che più stanno a cuore alla economia. Il contributo unificato in Italia è più alto di altri paesi europei, altro tema cruciale, i tempi nella giustizia amministrativa. In realtà un giudizio può arrivare a definirsi in primo grado anche in un mese se non scatta la sospensiva. Sospensiva della quale si ipotizza una soppressione, è praticabile? Non è praticabile perché la soppressione della tutela cautelare è sicuramente non solo incostituzionale ma anche non conforme al diritto della comunità europea. Nel riordino generale si è affacciata anche l'ipotesi di una giurisdizione unica. Rischierebbe alla fine di aggravare i tempi del processo. Con i difetti che pure ci sono la giustizia amministrativa garantisce tempi molto più brevi rispetto al civile. Se si consulta il sistema delle imprese io credo che la loro risposta sarebbe per una permanenza del sistema.